Questo appuntamento non bisogna perderlo assolutamente. Giovedì 9 giugno alle 21.15, io e il mio amico Fabrizio Ventura ci troviamo in diretta come ospiti su Passione Live. Abbiamo la possibilità di scambiarci domande, opinioni e soprattutto di rivederci dopo tanto tempo. Il titolo della puntata sarà La caccia nei social, quindi riguarda quasi tutti noi. E infatti noi ci siamo conosciuti lì, abbiamo fatto tanta amicizia lì. Vi aspetto numerosi e mi raccomando, non mancate! Ciao!